Sono rimasto offeso, vergogna! Anche stavolta mi tocca fare un video in cazzatura Cos'è successo? La colpa di chi è? Ve lo dico subito, potete stare tranquilli La colpa non è vostra, che state guardando questo video Non è vostra di... Ma neanche... cioè non è che me la sto prendendo con gente, no? Una categoria che magari dite Oh, cazzo, sta parlando di me, io non lo seguo sto tizio Però io faccio parte... no, tranquilli Non è una categoria Solo una persona in questo mondo Se vedo che sto video può rimanermi offesa Come sono rimasto offeso io del suo comportamento Ed è un idraulico Non so il suo nome, non so il suo cognome Non so chi sia Almeno per il momento Ma si spera che prima o poi arrivi E ora... eh, ora raga... ora ve lo spiego cos'è successo Ora ve lo spiego, fuoco, fuoco ve lo spiego Allora Vi faccio vedere che ore sono 15 e 22 Sappiate che io torno a casa Verso le due e mezzo, un po' più tardi Due e trentacinque Ero stato avvertito Di un arrivo di questo famigerato idraulico Che doveva risolvere un problema Con... Boh, una questione Con quelli sopra Che non so cosa sia successo Un problema idraulico sicuramente Di... boh, dal punto di vista del problema Ma non so dirvi quale problema Mi fa male il braccio Comunque... e qual è il punto? Sono le 3 e 22 A che ora mi era stato detto che doveva arrivare a questo famoso idraulico? Alle 15 E tornando io a casa alle due e trentacinque Non avendo la servitù Una persona che sta lì Buongiorno signor Sanco Le preparo da prangiare Che mi accoglie E mi prepara un pranzo Che i fiocchi in anticipo, no? Calcolando il momento in cui arrivo Capite bene che prepararmi il pranzo E mangiarlo Entro 25 minuti Mi sembrava un po' complesso E allora ho detto Non c'è problema Rimanderò il pranzo Nonostante io stia morendo di fame Per aspettare questo famoso idraulico Per evitare che arrivi Mentre sto preparando Mentre sto mangiando Insomma, ho avuto una rottura di coglioni Aspettiamo Aspettiamo Certo Aspettiamo Ma non le tre e mezzo Ora io Secondo me Mentre registro questo video Proprio a presa di culo Mi suonerà il campanello A un certo punto Lo spero Perché almeno me lo tolgo dai coglioni Però Ragazzi Sto morendo di fame Non posso aspettare l'idraulico Ma torno alle due e mezzo a scuola Se si mi fiede l'appuntamento alle tre Ma poi all'ultimo me l'hanno detto Avvertite Il giorno prima Mi preparo Mi mangio qualcosa a scuola Invece di venire a casa E poi scoprire che Non posso Cristo Dio Che palle E quindi niente Per colpa di questo idraulico Guardate Guardate cosa ho dovuto fare Guardate Mi stanno rovinando Guardate Guardate cosa ho preso Non ho neanche finito ancora Le fonzis ragazzi Sto prengendo Delle fonzis Ma vi rendete conti Non posso rovinarmi La vita così Per colpa di un idraulico Che non arriva Che orario è Le 15 Ma fa le 16 15 e mezzo Che sta facendo Vedi infatti Non ha senso Un orario le 15 Fatto stack Infatti Non sta arrivando E sono quasi Le 3 e mezzo Ma Fissa per le 3 e mezzo No Fissa per le 3 E non ho neanche più fame Capito Perché se avessi fame Adesso Anche le fonzis Mi andrebbero bene E invece no C'ho quel saporino Di formaggio Orribile Mi ha fatto passare la fame Che palle Ragazzi Non fidatevi mai Di questo idraulico È vero A casa mia Vi darò il nome Con il nome Codice fiscale Vi dirò La ditta per cui lavora Cercherò di farlo Licenziare Quindi La ditta per cui lavora Potrebbe cambiare Però Vi dirò Insomma I nomi nativi Magari il numero di telefono Magari Vi dico la data di nascita Insomma Magari Se riesco Gli faccio una foto La carta identità Così Sapete Che Chiamate l'idraulico Chi è? Martino Palmiri L'ho detto Nome a caso Non si chiama così Martino Palmiri Ma chi? Quello nato Nel Nel 9 gennaio 1957 Sì Lui Che mi fai a saperlo Annullate Tutto Gli dite Guarda Non ti preoccupare Sento qualcun altro E via Fatelo Capito Il Mirio Come l'ho chiamato Il Mirio Falmiri Emilio No Emilia Che cazzo Non mi ha detto Il Mirio E fallini Eh Capito Te non Te non Lavori Che Solo Potembo Che Solo Potembo Che Mi sta Facendo Perdere Io Taggia Cacca In bocca Capito Perché Sarebbe Sparare in bocca Però A parte Non Una pistola Ho sentito Un suono Potrebbe arrivare L'idraulico Non è Il campanello Capito No La battuta Era Perché Di norma Ti sparo in bocca Con una pistola E tra l'altro È un idraulico Quindi Taggia Cacca In bocca Mi fa Incazzare Perché Non so Neanche Perché Deve Venire Magari Viene Non risolve Neanche Io Grazie Magari Gli do Anche I soldi Così Che Non Non Ho Soldi Cosa Gli devo Dare Gli do Il cazzo Come ricompensa Non so Che fare Non l'ho Fatto E io Non lo so Perché Non è Niente Che io Sappia Non è Una cosa Evidente Non è Una cosa Che io Posso Vedere Perché Non ci Sono Problemi Evidenti Non ci Sono Problemi Evidenti Nell'idraulica Della mia Casa In questo Momento Non ci Sono Che ne So Non si Apre Rubinetto Sgocciola E Lo sciacquone Non funziona Lo sciacquone Crea Un tornado Che distrugge La casa No Non succede Nulla Quindi Non lo so Qual è Il problema Che palle Vabbè Chiamerò Mio babbo Per lamentarmi Adesso Fate come me Se c'è Un problema Se c'è un problema Del genere Non fate Cose strane Lamentatevi Su youtube È il metodo Migliore Vi sfogate Vi sentite compresi Da qualcuno Anche se nessuno Guarda il video Perché so Che nessuno Guarderà questo video E siete a posto Non avete fatto male A nessuno Anche se lo farò Perché come ho detto Vi darò i nominativi Quindi Comunque magari farò Licenza a una persona Ma È una persona Che se lo merita Non è una persona A caso Quindi Niente È finito questo video Ci vediamo domani Con un altro video Non so quando uscirà questo Forse Mercoledì No Mercoledì c'è La tier list Tutte le brice Delle fonzi Singola Vabbè Ciao ragazzi